Dopo aver calcato le scene del teatro, i ragazzi della cooperativa T41A non smettono di stupire e dal teatro passano al cinema. Sono loro infatti gli attori del film Avancers, le tre carte, diretti da Lorenzo Piscopiello, il regista di tutti i musical messi in scena dai ragazzi negli ultimi anni. Il film è stato presentato questa mattina in conferenza stampa, alla presenza dell'assessore alla solidarietà del comune Sara Mengucci, insieme agli attori, al regista e agli educatori. Avancers verrà proiettato al cinema Loreto di Pesaro il 21 gennaio prossimo alle 21. Nel film ci sono anche comparse di volti noti della nostra città, come il sindaco Matteo Ricci. Sentiamo il regista. La trama non posso svelare troppo, posso dire che parla di superpoteri. Parliamo di supereroi e parliamo soprattutto di superpoteri. E la premessa, che sarà l'unica cosa che svelerò in questa sede, è cosa succede quando i superpoteri sono innati in persone disabili. Non penso che sia mai stata affrontata questa cosa. Noi abbiamo provato a dare i superpoteri ai nostri ragazzoni, come li chiamiamo noi, che quindi al tempo stesso riescono a usare i loro poteri e a fare dei gran casini. Questa è la premessa di tutto. Vediamo come si sviluppa. È un film in due parti, quindi vedremo la prima parte quest'anno e poi ci metteremo al lavoro sulla seconda. Come è stato a lavorare con questi ragazzi? Io lavoro con loro con il teatro da cinque anni, quindi eravamo pronti per un passo, io penso, diverso, non in avanti, non indietro, ma diverso. E il cinema è un'ottima cosa. Si sono comportati bene, per loro era tutto nuovo, perché i tempi sono completamente diversi da una preparazione di uno spettacolo teatrale, però loro sono stati proprio bravissimi. Quindi noi siamo molto contenti, il progetto ha funzionato, al di là di ogni risultato, e quindi vediamo se addirittura piace anche al pubblico. Questo lo scopriremo. Ti è piaciuto fare questo film? Sì, sì. Come ti sei trovato con i tuoi compagni? È già pronta a una carriera d'attore, no? Veramente, il mio compagno c'è solo uno, si chiama Luca Cicchettini. È il mio compagno, solo lui e basta. Quindi ormai sei pronto per fare l'attore? Sì. Per la proiezione del 21 gennaio tutti i biglietti sono già stati venduti, ma verrà organizzata un'altra proiezione il 28 gennaio. Alle 21, sempre al Cinema Loreto. e per la proiezione dighaniere che sviluppa sono stati vendute. Grazie.